...internet e anche dark web, quindi monitorate i genitori quello che i figli fanno su internet. Gli agenti del commissariato di polizia di Termoli, coordinati dalla procura di Larino, hanno arrestato un uomo di 38 anni a Guardia Alfiera. Nella sua abitazione aveva allestito un laboratorio per coltivare e produrre marijuana, ma al centro di questa inchiesta c'è il dark web, un nuovo e inarrestabile fenomeno che si sta affacciando anche nella nostra regione. Aveva comprato tutto su internet il 38enne di Guardia Alfiera, arrestato dagli agenti del commissariato di Termoli dopo mesi di indagine. All'interno della sua casa, in cui vive con il padre, sono state trovate serre utilizzate per la coltura di piante di marijuana, dotate di lampade ultraviolette e sistemi di ventilazione. Aveva questo laboratorio non tanto artigianale, un laboratorio che gli ha consentito di mettere in campo produzione e coltivazione di sostanza vietata dalla legge. Aveva anche un diario con un programma settimanale su cui riportava gli orari e gli interventi di concimazione ed annaffiatura necessari per ogni singola serra. E poi fotografie a colori che riproducevano piante di marijuana di varie tipologie e dimensioni collocati all'interno delle serre, sicuramente relative a produzioni precedenti e destinate con molta probabilità ad un uso pubblicitario. Mi lascia sempre abbastanza basita vedere come è facile digitare coltivazione di sostanze stupefacenti e hai quasi come se fosse un ricettario di cucina tutte le indicazioni su tutto ciò che serve. Questo crea un problema anche di difficoltà maggiore per la polizia nel riuscire a individuare, perché quelli che sono sempre stati i consueti canali e anche le consuete modalità, cioè gli appostamenti, i controlli su strada, l'osservazione, devono essere necessariamente rivisitati alla luce di nuove forme di spaccio, di attività, di produzione, insomma nuovi meccanismi anche di consegna, di invio, perché ci possono essere, soprattutto in questo periodo in cui c'è stato il tutti a casa, sono state anche introdotte nuove modalità di consegna degli stupefacenti. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno sequestrato 14 vasi con piante di marijuana, contenitori con foglie di infiorescenze essiccate, pasta di marijuana, attrezzature per l'essiccazione, il confezionamento e la pesatura, ma hanno sequestrato anche sei armi da taglio, quattro coltelli, un pugnale e un macete e varie cartucce illegalmente detenute. La polizia ha accertato per ora che ad operare fosse da solo, ma le indagini non sono chiuse. Al momento sì, però stiamo sviluppando altre attività che ci potranno consentire di arrivare ad altre persone. A seguito dell'udienza per rito direttissimo che si è tenuta questa mattina, il Tribunale di Larino ha convalidato gli arresti e ha applicato la misura dell'obbligo di dimora a Guardia Alfiera.